Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento, dal percorso che sicuramente in tanti avete fatto per arrivare alla cella numero uno di Padre Pio e vogliamo raccontarvi in questo minuto legato alla vita di Padre Pio qualcosa che è accaduto in quella cella. Ce lo racconta Padre Nunzio Palmieri d'Ateano riguardo ad una piccola riforma di Pio XII. Siamo nel gennaio del 1953. Come ben sappiamo ai tempi di Padre Pio vi era il cosiddetto digiuno eucaristico. Dopo la mezzanotte i sacerdoti non potevano prendere qualcosa, non potevano mangiare neanche bere prima della celebrazione eucaristica. Oggi come ben sappiamo per tutti noi ecco questa astensione di prendere qualcosa, di mangiare qualcosa è legata ad un'ora prima della celebrazione quando noi andiamo a ricevere così l'ostia dalle mani del sacerdote. Ecco nel momento in cui ci fu questa piccola riforma, proprio perché Pio XII con la costituzione apostolica Crissus Dominus della disciplina da osservare circa il digiuno eucaristi tre ore prima. Nei giorni successivi a questo provvedimento pontificio Padre Pio, proprio conversando con alcuni confratelli nella sua cella ed era presente appunto lo stesso Padre Nunzio Palmieri, ascolto le parole di Padre Pio. Sia proprio benedetto questo Papa, disse Padre Pio, perché facendo, commentando questa piccola riforma tra sacerdoti dicevano ecco se un sacerdote doveva celebrare tre messe dalla mezzanotte poi all'ultima messa come doveva arrivare? Sfinito, disse Padre Pio e disse questo padre, questo Papa ha fatto una cosa giusta, una scelta giusta, proprio perché Padre Pio non faceva altro che rispettare tutte le leggi, anche quelle più rigide, ma se poi venivano cambiate e così rese più leggere, lui era il primo a goderne e allora lui disse, benedetto questo Papa.